Porta Cremona Lodi in un fulgore di stelle. È lo spettacolo che esaltuariamente possono apprezzare di sera le centinaia di lodigiani che in auto, in sella alla bicicletta o a piedi si trovano a passare tra il passeggio e Corso Mazzini. Nella festa di luci che in piazza della Vittoria nelle vie del centro si è scatenata dalla vigilia dell'Immacolata fa il suo effetto il gioco di simboli che si staglia sulle due facciate dell'arco di Porta Cremona. L'effetto indubbiamente accattivante, tanto da distrarre molti dalla guida della loro auto, è stato ottenuto semplicemente con due proiettori collocati in posizioni adeguate. Ne beneficia in parte anche la chiesa di Santa Maria delle Grazie, nascosta comunque al gioco delle luci come il vicino monumento dedicato ai caduti di tutte le guerre. Porta Cremona assume comunque un fascino tutto particolare, contribuendo in maniera significativa alla festa di luci che avvolge tutta la città. Resta solo da capire i tempi di accensione dei proiettori, così casuali da lasciare sconcertati.